Ischia verso le elezioni amministrative, quali ispiragli Peppe Brandi? Sarà un bel vedere perché ci saranno vari candidati, credo, almeno da quello che ho potuto sapere sia ascoltando i diretti interessati, sia leggendo qualche giornale, soprattutto seguendo il vostro telegiornale le vostre rubiche di approfondimento, anche se penso che sarebbe più opportuno creare due schieramenti un blocco moderato, un'area di centrodestra e un blocco progressista, un blocco di aree di centrosinistra perché più candidature polverizzano e parcellizzano il dato elettorale, del corpo elettorale quindi se riusciranno i nostri amici che vorranno assumere la responsabilità del governo del paese capire che c'è bisogno di un rassemblemento, di un insieme, raccogliere intorno a sé intorno a degli ideali, dell'idea, dei programmi, insomma a una idea di base, raccogliere il maggior numero di consensi e allora si arriverà a un doppio schieramento, un'area moderata e un'area progressista. Viceversa se ci saranno le spinte vuol dire che poi dopo si andrà al ballottaggio e ci saranno questi raggruppamenti che saranno dovuti alla scelta elettorale, quindi non sarà più il candidato sindaco o i candidati consiglieri comunali che svolgeranno un dato polizio, sarà il corpo elettorale, cioè i cittadini elettori che esprimendo il loro consenso diranno se è giusto che ci sia una parcellizzazione, quindi uno spappolamento del quadro politico, se invece è più giusto e più utile per il paese raggruppare due poli, un polo moderato e un polo progressista per andare poi a confrontarsi e naturalmente ereditare i guai del paese. Già si fa qualche nome tipo Enzo Ferrandino da una parte e Domenico Desiano dall'altra? Sì sì, so di questo perché sia Enzo con il quale io ho un rapporto piacevole perché è una persona molto intelligente, molto seria anche e lui mi diceva che naturalmente nel momento in cui ha accettato la candidatura vice sindica è fuori discussione che è un'indicazione per il futuro, anche se scalpita in quest'area Gianluca Trani il quale naturalmente è forte di un rapporto diretto con il governatore della regione Campania e Conte Luca, bisognerà vedere, poi dovrà combattere lui perché poi la politica è competizione. E so anche che in un'area di centro-destra, avendo noi parlato già con Domenico, c'è questo suo desiderio, questa sua volontà di cimentarsi per risolvere i problemi del paese. Se questi saranno i candidati poi sarà il corpo elettorale a fare le proprie scelte.